Allora, la Regione Campania qualche giorno fa ha inserito i distretti commerciali anche di tre comuni dell'Alto Casertano. Diciamo che è un primo passo importante. Sì, certamente. Abbiamo lavorato a questo progetto già da moltissimi mesi. I sindaci dei comuni di Piedimonte Matesi, Alife e San Potito sono stati lungimiranti su questa grande avventura che si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi, nel senso che ci è stato assegnato il riconoscimento di centro commerciale, distretto commerciale e da questo momento possiamo partire con tantissimi progetti. È vero che per il distretto commerciale è stato necessario, è stata necessaria una forte collaborazione delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio che sono stati partners di primo livello in tutta questa diciamo programmazione. Quali saranno i tempi? I tempi diciamo che sono già maturi. A brevissimo arriverà un avviso della Regione Campania che mette già a disposizione i primi fondi per tutte quelle imprese sul territorio che fanno parte della circoscrizione del distretto e potranno accedere ai fondi, soprattutto tutte quelle attività che sono sorte ed erano già presenti sul territorio nel 2019, proprio a far fronte di tutte quelle carenze, di tutte quelle problematiche che abbiamo dovuto affrontare durante la pandemia. Come hanno risposto i commercianti? I commercianti in verità devono essere ancora informati bene di questo distretto, perché molti hanno qualche confusione, essendo anche il distretto una novità, sorta appunto post-Covid diciamo. Quindi io credo che sia necessario incontrarli tutti e informarli, ma soprattutto fargli capire l'importanza del distretto commerciale e di tutto quello che si può fare, non solo per sviluppare l'economia personale, quindi delle imprese, ma soprattutto per uno sviluppo del territorio sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto sociale e culturale. Del resto abbiamo tre sindaci che sono molto molto attenti a quello che è il benessere dei cittadini.